Questa è Milano, ma la vicenda che vogliamo onarrarvi potrebbe essere accaduta in una qualsiasi altra grande città, di un qualsiasi altro paese, di un qualsiasi altro continente. E questo è l'ambiente, un agglomerato di gente allo stesso tempo preoccupata e serena, sorridente e triste, fredda e appassionata. Ed è qui che nasce, prende forma, ingigantisce, esplode il dramma che trascina i protagonisti in un clima di ossessionante tensione. Basta! Basta! Ha molto bisogno d'affetto? Lei no. Giovanni, Lidia, Valentina. Tre esseri che si vogliono bene ciascuno a modo suo. Tre squarci di vita intima. Andiamo dove vuoi, ma non stiamo in casa. Tre creature che una spietata analisi dei propri sentimenti spinge verso l'inevitabile e dolorosa conclusione. Adesso vai da tua moglie e ci resti per tutta la serata. Il dramma che scaturisce da un amore che muore e una passione che nasce. Ecco la bruciante vicenda del film di Michelangelo Antonioni. Perché non parliamo mai noi due? Sì, più tardi. Più tardi venga a rimboccarle le coperte e le racconta una bella favola. E la democrazia, per dirle in parole povere, significa fai quello che accade. Tu non sai che cosa vuol dire sentirsele addosso tutti, gli anni, e non capirli più? Stasera vorrei solo morire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.